Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Giovanni Barreca, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie Antonella Salamone e i figli di 16 e 5 anni Kevin ed Emanuel nel corso di un esorcismo e i suoi due complici Sabrina Fina e Massimo Carandente. I tre fermati domenica per omicidio e soppressione di cadavere sono comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari di termini merese che dovrà convalidare i provvedimenti restrittivi per l'interrogatorio di garanzia. Il magistrato al termine dell'udienza si è riservato la decisione. Intanto questa mattina un corteo silenzioso di studenti e insegnanti del liceo Renato Guttuso ha sfilato a Bagheria per ricordare Kevin Barreca, sedicenne, ucciso insieme a fratello Emanuel e alla mamma Antonella Salamone nella villetta di Altavilla Milicia. Kevin non esiste separazione finché c'è ricordo, Kevin vive. Sono alcune delle scritte che campeggiavano sui cartelloni degli studenti in corteo con la foto del ragazzo e alcuni disegni del giovane che amava raffigurare gli uccelli. Domani è previsto dal Altavilla Milicia un momento di preghiera per Antonella Salamone e i ragazzi assassinati.